Comandante Luciano Pischedda, oggi in Capitaneria le tre pallanotiste che ieri sono state protagonista di un salvataggio. Perché è importante quello che hanno fatto? Ma è importante perché hanno messo in evidenza quello che poi viene svolto giornalmente durante la stagione balneare degli addetti a salvamento, tanti bagnini che poi normalmente rimangono un po' nell'ombra quando fanno dei soccorsi. Invece con la loro presenza hanno dato un po' più di lusso all'attività di queste persone. Hanno fatto comunque un bel gesto che fa onore a loro e allo sport che rappresentano, aiutando alcuni bagnanti in difficoltà che potevano anche avere una giornata ancora più complicata. Con l'occasione invece è giusto ricordare a tutti i bagnanti che quando c'è una condizione del mare come quella di ieri disposta alla bandiera rossa, prestino maggiore attenzione rimanendo in spiaggia perché non sempre ci sono delle pallanotiste così abili nel soccorso da poter dare una mano ai bagnini e a poterle tirare fuori da impiccio chi imprudentemente si getta in acqua con la bandiera rossa.